Dunque, ci è stato proposto uno spettacolo in Isernino scritto da Maurizio Veneziale, inizialmente con un po' di dubbi e titubanze, visto che comunque non sono di Isernia, ma sono l'unico a non essere di Isernia. Però lo spettacolo è molto, molto divertente, per cui abbiamo accettato una sfida per noi, e l'abbiamo accettata e speriamo che venga recepita nel giusto modo anche da quanti verranno a vedere lo spettacolo. Il titolo è Senza Parlacce Capem, è in Isernia, Senza Parlacce Capem, e si farà il 29 di giugno alle 21 all'auditorium. È uno spaccato storico, perché è ambientata tra il 69 e il 70, quando appunto a Isernia fu fatta provincia. Oltre al divertimento c'è anche un riferimento storico. Se venite, ci fate piacere.